Ma come ti viene in mente? Che puttana. Ma chi c'entra? È un ragazzo. Oh, hai capito? Nel, Nel! Smettete. Porca. Probabilmente è un errore. Oh, certo. Senz'altro. Come no, bambolina? Ah! Non hai idea di chi possa essere? Pronto? 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 Chris? Chris? Chris, sei tu? Chris, sei tu? Chris? Voglio essere dentro di te. No, c'è un gioco. Corona! �heim Grazie a tutti.